Un testo breve, otto articoli in tutto, il primo tra i più importanti, quello sul consenso e informato. Poi la terapia del dolore, i minori e l'articolo 4, pilastro del testo, con le disposizioni anticipate di trattamento. Cominciamo da qui. Comma 1. Ogni persona maggiorenne in previsione di un'eventuale e futura incapacità può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, indicando un fiduciario che ne faccia le veci. E ancora, comma 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura autenticata, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. Si comprende così meglio l'articolo 1 sul consenso informato. Comma 1. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E comma 5, col primo punto controverso, ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario. Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici. In definitiva, da oggi la legge italiana prevede che un ammalato grave possa morire, se lo chiede, per denutrizione e per disidratazione. Infine, almeno altri due i nodi controversi, come l'obiezione di coscienza del medico. Secondo i favorevoli alla legge sarebbe prevista, secondo i contrari invece no. Nodo dibattutissimo alle camere, ma alla fine liquidato in fretta e furia dal Senato. Ecco il testo. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norma di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali. Nessun dubbio invece sulle deroghe per gli ospedali cattolici, perché semplicemente non sono state concesse. Comma 9. Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce la piena e corretta attuazione della legge.